Io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi sento anche cittadino del mondo, sicché italiani e italiane che mi ascoltate, quando un uomo in un angolo della terra lotta per la sua libertà e soffre in carcere perché questa, perché vuole essere un uomo libero, io sono al fianco di quest'uomo con la mia solidarietà di cittadino del mondo. Grazie.